Ah, ma questa è la modalità quai troll, quindi trolliamo anche noi, no? Allora, 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 voi direte, in un'ora ci sono 60 minuti, no? Perché allora, vabbè, ok, dopo questa battuta, la solita battuta, io vi dico che adesso, Nico, allontanatevi tutti, mettetevi tutti qua, in questo blocco qua Nico, fammi un favore, ho bisogno di un seme, potresti prendermi un semino? Grazie, Nico Ma cosa è successo? Dico E diciamo che questa modalità che abbiamo aggiunto su Minecraft è un pochettino troll, ok? Perché sono avvelenato? Ma cosa serve? Allora, prendiamo, possiamo prendere un pochettino di legno per cortesia Eh, sì, però ci serve dell'erba, aspetta, ti do una mano? Perché no, mi serve il legno, no, il legno non si... Ho preso un pezzo di legno, finalmente Eh, infatti Bisogna fare delle cose vicino al legno, così poi magari te le da... Oh, stick mi ha dato, buono, buono Domanda, quindi se io facessi esplodere la terra, cioè la terra esplode? Sì esplode Esplode tutto, esplode, esplode tutto, esplode Eh, ma io volevo prendere dei diamanti, come facciamo? Eh, i diamanti saranno un po' complicati, eh Allora, noi abbiamo bisogno di legno Sposto l'acqua Sì, esatto, guardate ragazzi, venite Ma cos'è l'acqua? È bellissimo Che senso ho sposto l'acqua? Eh, sì, non sono sposti Mi si è spaccata la gamba Ma? Ok, allora, dobbiamo spaccare il legno ragazzi Deve, deve per forza... Io ho mezzo cuore, datemi un attimo Ok Facciamo queste cose con calma, per favore Cioè, dobbiamo fare così Ma non droppano blocchi, c'è un semino No, io il legno ce l'ho Ah, perché forse questi qua... Sì, grazie mille, grazie Adesso mi serve perché dobbiamo sostentare Il nostro obiettivo di oggi è prendere del legno Oh, un pezzo Mi sa che è un po' dura questa Era, era di prendere del... Eh, siete i nomi tutti, perfetto Ok, oh, grazie Oh, abbiamo due legni, raga Crafting table, finalmente La facciamo una crafting table Ma non è che la crafting esplode? Speriamo di no Speriamo che i crafting siano normali, ragazzi Ok Ho un piccone Oh, scusa Non volevo Espede veramente tutto Aiuto Aiuto Cosa vorresti fare? Tu non lo spiegami Oh, del ferro Io vorrei cercare dei diamanti E non lo so Cioè, non so se ti conviene Qualcuno di voi ha preso almeno un po' di coble E sono un po' di... Oh, che bravo Bravo, fiorellino Guarda, bravo il fiorellino Dovresti avere anche un pezzo di iron Perché l'ho visto che l'ha droppato Quindi sei riuscito a dar... Ma la mia... Dov'è la mia crafting table? La mia crafting table Hai fatto esplodere? Ragazzi, la mia... Dov'è la mia crafting table? Hai fatto tu esplodere Hai fatto tu esplodere Aspetta, fammi prima fare questa cosa Fatemi fare un attimino Lo so, lo so Lo ce l'avevo visto prima Ma come del ferro cotto Ma io voglio del ferro da cuocere Scusami No, io lo cotto E io bisogno del ferro da cuocere Ho bisogno di chiedere lino E va bene, adesso lo vado a cercare Va bene, lo vado a cercare Ok Era qua, dai, vieni a prenderlo Dov'è il ferro Io ragazzi vorrei anche una crafting table Però mi serve tutto Nooo Aspetta, voglio andare anche come va di in alto Ciao a tutti Mi chiamo Non cadere nell'acqua Non funziona Lo funziona No, marcia Ciao Ok E la crafting table E quella te la fai da solo E ho bisogno del legno Eh, fai qui vicino Eh, sì E fai così? Eh, fai il po' Sarebbe meglio di no Qua te che ti do una mano, buddy Allora saltare per aria Un pezzo di terra Sì, me l'ha dato Ma ha dato il legno Ma ha dato il legno Allora, raga, con calma Ma vi faccio da una cosa Che porca miseria Morite Allora, guardate Io adesso faccio una fornace, giusto? Ok, ho fatto la fornace Eh, metto Metto la fornace Attanto, attanto No, no, no No, no, raga Non fate spettare niente Guardate all'interno Della fornace C'è un pezzo di ferro Vai, sì Metti il col che c'hai, Nico Ma non si sta cuocendo Esatto Non si cuoce Ma come non si cuoce? Perché questa modalità ci trolla, ok? Hai visto? Ci ha trollati di nuovo Guarda, vedi Se tu provi avanti Si cuoce Si cuoce Se provi avanti che lo zombie ti fa danno Ma ragazzi, con calma Ma Ho beccato una pecore scappata Guardate Nico, guarda Guarda Ma 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 Raga, non ci sto capito più niente Non ci sto capito più niente No, veramente È una cosa impossibile Quest'altro che trollare questa modalità Ci vuole proprio del male, punto Ok, sono riuscito a scappare, ragazzi Finalmente Hai due zombie dietro, tranquillo Ok, mi sono spaccato una gamba Ok, non te la spaccare, Marci Non te la spaccare, Marci Mi senti seguendo, raga Ok, qua c'è un grandissimo scheletro Ma Di creeper No Il creeper Il creeper Ma è successo? Eh Il creeper se li prendi Diciamo Scusa ma uno scheletro quanto toglie? Io mi metto lo spawn point un po' più lontano dal lacco Così non l'argo più Ragazzi C'è un enderman, lo vedete? Ci sono solo gli occhi Ci sono solo gli occhi Aiuto Vai via enderman No ragazzi Non ci si può giocare in questa modalità Raga Vi faccio vedere una cosa dei creeper Venite venite Guardate se li cliccate Non si moltiplicano Ok Ma proprio tanto Prova a farmi colpire da uno scheletro Guarda quando io togli Ciao scheletro Ma mi ha ucciso Toglie tantissimo 5 cuore toglie Vabbè Di un po' Insomma Tutti Considerando che ho mezzo cuore non male No Infatti mi sto facendo Oh perché sono spawnato qua adesso? Ma No 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 Ma quanti ce ne sono? Ragazzi le sto facendo spawnare un po' Ma no Ma no Già tutto è solo Ragazzi mi ha droppato il disco Ma chi? Mi ha droppato il creeper droppa il disco Tipo se vengono ucciso un altro creeper Ah il vero Ma Tra in teoria dopo il disco Se mi è ucciso dello scheletro Eh Sì Lo scheletro Ma ragazzi Ma dobbiamo cercare di andare al diamante Ok Ma come ci arriviamo Non abbiamo Facciamo Facciamo una buca qua sotto di creeper Con i creeper Eh dai Fosse facile Non ce ne sono più Però ci sono degli zombie Ma gli stivalenti che hanno i mostri Che cosa cosa sono Scusate I mostri I mostri Che hanno i mostri Ma lì Ma i ragni non ci sono Per fortuna C'è uno qua guarda Prova a ammazzarlo Ammazzarlo Con le mani Ma è velocissimo E' molto veloce Cos'è successo? Sono più arrabbiate con Nico Non ho capito bene Secondo me Questa modalità Ci sta trollando un pochettino troppo Ma 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 sono esplosive queste ape Altro che Allora raga Dobbiamo trovare questi diamanti Uno alla volta Ci mettiamo qua e scaviamo Vai raga Io ci sto Se siete con me No non siete più Ma abbiamo tutti i mob dentro Non mi fai scavare Eh ciao Ma possiamo spawnare almeno No no raga Non spawnare Non enderpearl Guardate ragazzi Ando verso il sotto Io Brutalmente Spawno re-spawno Spawno re-spawno Spawno re-spawno Spawno re-spawno Spawno re-spawno Io Boh Cioè non lo so Io mi arreno Nico non è che ci potresti dare tipo resistenza infinita così vai citiamo un pochettino Allora lui ci trolla il gioco e noi trolliamo lui perché adesso Nico ci darà resistenza Sì sì vai Ora non puoi morire Non posso morire Ora non puoi morire Ragazzi Perfetto Andiamo avanti Oh là Che bello Sì riusciamo a scendere un pochino finalmente Ma io scendo direttamente così guarda Uno Vai Un po' difficile comunque Due Sì Tre Quattro Posso togliermi l'autogjump Perché ogni volta c'è l'autogjump attivo? Non l'autogjump Ok Ma perché c'ho blindness adesso scusate Anch'io Non lo so Forse perché siamo tipo scesi sotto il livello Quattro Ah è vero Esatto Anche facciamo la sabbia raga Mi sa che è meglio Ma non si spacca niente Con la sabbia raga Oh però c'è No Raga la sabbia non spacca niente Io non si spacca No io si Spacca tipo un blocco Spacca Piccone meglio Piccone meglio Raga piccone meglio Nico 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 Wait un attimo ragazzi Ce l'abbiamo Ok So che avete degli stick Nell'inventare Datemi Io ne ho uno Eh Oh bravissimo No me ne serve un altro raga Ah non è mentre Le lanciate due Abbiamo tre Ok ok Ragazzi ci facciamo il piccone in ferro Così siamo velocissimi Ragazzi a che livello siamo? 24 24 Ragazzi ci siamo Siamo verso il diamante Sì domani 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 ci arriviamo Il diamante Domani trovo il diamante Magari Eh mi sa di sì Ragazzi ce la faremo 13 15 14 13 12 12 12 va bene 12 Proviamo qua Vai Esatto Vai dritto Un po' di razza Ce l'abbiamo raga Ragazzi ho la tecnica Io Avete visto Abbassiamo un po' Abbassiamo un po' I suoni Facciamo che abbassiamo un po' I suoni Dai Mi sembra Ma anche voi siete facendo tecniche No Ti sto seguendo Io seguo una tecnica Io seguo marcio Molto più sicuro Io vado dritto raga Vado dritto E spero di trovare un diamante Se trovo un diamante Per me ho vinto proprio emotivamente Se non esplode Ma lo puoi prendere quel diamante Esatto No lo puoi prendere Uno Però solo uno Gli altri esplodono Ok io non trovo ancora niente Però dietro questa redson Un po' mi puzza Mi puzza raga Dove la redson qua Vediamo Vediamo No Niente 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 raga Vai andiamo avanti Andiamo avanti Ci proviamo Andiamo sempre dritto Oppure facciamo tipo così Facciamo un po' così Un po' così E un po' così E un po' così Dai Nico Ci dati un piccolo inferro Dai Anche tu buddy Dobbiamo trovarlo Il piccolo Dobbiamo trovare il diamante Lui ci trolla E noi lo trogliavano L'ho capito Scusami Non vi arrabbiate però Con le cose Ma va Ma questa è modalità Quai troll Quindi troviamo anche noi Mi sembra giusto Adesso attivo pure L'X-ray Raga Eh non male Allora vado Vado Raga Hai trovati? Sì ho trovati Finalmente Davvero? Finalmente Raga da loco Andiamo da loco Ma anche qua ci sono Raga Anche qua Dove sei buddy? Eh non lo so Non vi vedo Badi eccoci Non vedo niente Dove siete? Raga Ce l'abbiamo Io L'ho buttato L'ho buttato Ma l'avete fatto esplodere Due Ok abbiamo tre Ne abbiamo presi? Io ne avevo due Ne avevo uno Più uno che ho trovato Però l'ha fatto esplodere Nico Eh L'abbiamo fatta Ragazzi E Grazie.